Il Parlamento è stato un periodo, un periodo ci persi. Il Parlamento è stato un periodo, un periodo ci perso per questo. Alla campana, 53-41, 53-41, 48, va bene? Alla campana, 53-41, 53-41, 53-43, va bene? Poi, Paetacombe numero 37 e 17. Allegra Maria Arzumpi, dovrebbe essere di posta, questi colori toscani, attenziamo. Paetacombe numero 9. Rupigializzazione da parte, il codeggio di Gioria Dele, Foto Pini. Allegra Maria Arzumpi, manteniamo il compagnia, dovrebbe aver mantenuto quel milione amante per la sconquista del Gran Premio di Giotta Giornata Nazionale. Rupigializzazione della sconquista del Gran Premio di Gioria Dele, Foto Pini. Grazie.